È sano per il mio bambino avere un amico immaginario. Un amico immaginario è un amico immaginario spesso creato da un bambino. Il bambino può trattare l'amico in un modo molto reale. Lui o lei può giocare con un amico immaginario o parlarne, potrebbe provare a dar da mangiare o incolpare l'amico se commette un misfatto. È abbastanza comune per un bambino avere un amico immaginario e non significa che il bambino abbia qualche tipo di disturbo. Mentre alcuni bambini con autismo ne hanno uno, la maggior parte dei bambini con amici immaginari non ha problemi di elaborazione del cervello o problemi psicologici. Infatti, un amico immaginario è spesso un modo meraviglioso per i bambini di esprimere la propria creatività. L'amico apre la possibilità di sperimentare ogni tipo di fantasia. Inoltre, l'amico può essere di notevole aiuto per un bambino dal punto di vista psicologico. L'amico, o l'immaginario che il bambino crea, può aiutare il bambino a ordinare al mondo il modo in cui gli piacerebbe. In alcuni casi, avere un amico immaginario ha una risposta alla solitudine o stress eccessivo in casa, rendendolo un dispositivo di coping benefico. Un bambino che è isolato potrebbe aver bisogno di avere un amico con cui giocare. I bambini che vivono in condizioni di stress possono usare la loro immaginazione per realizzare il desiderio. Generalmente, i genitori non dovrebbero preoccuparsi dell'amico immaginario di un bambino, specialmente quando i bambini sono giovani. La preoccupazione dovrebbe sorgere quando l'amico impedisce al bambino di fare veri amici. Ad esempio, un kindergartner che continua a giocare con il suo amico piuttosto che interagire con altri bambini potrebbe aver bisogno di un piccolo aiuto per regolare tra il reale e l'immaginario. Tuttavia, sfidare il bambino e tentare di costringere il bambino a rinunciare all'amico è una pessima pratica. Se l'amico immaginario sta isolando socialmente il bambino, giocare alla terapia è utile per permettere al bambino di allontanarsi gradualmente da lui o da lei. Costringere il bambino a affrontare le realtà può essere crudele e spoglia al bambino della capacità di ordinare la propria vita da sogno. Le preoccupazioni sorgono quando i bambini e adolescenti sviluppano amici immaginari. Accertare fino a che punto il bambino crede che l'amico sia reale e importante. Alcune ragazze adolescenti hanno fidanzati immaginari, una pratica abbastanza innocua, quando capiscono che il fidanzato in realtà non esiste. Un adolescente o un giovane adulto con un nemico o un amico immaginario, tuttavia, potrebbe manifestare un certo grado di schizofrenia. Parlare spesso con se stessi o credere che un nemico sconosciuto faccia male a qualcuno suggerisce che l'adolescente dovrebbe essere valutato da un professionista della salute mentale. I bambini piccoli, al contrario, sono in genere abbastanza psicologicamente sani quando concepiscono un amico immaginario. Gli studi dimostrano inoltre che questi bambini possono migliorare la loro autostima avendo un amico che li tratta con il massimo rispetto e l'amore incondizionato. I bambini stanno anche tentando di definire la differenza tra fantasia e realtà. Man mano che maturano, nella maggior parte dei casi, l'amico immaginario diventa meno reale, sebbene l'amico possa rimanere un ricordo prezioso di giorni innocenti.